Da patrimonio donato alla collettività per beneficenza ad un vergognoso caso di mala gestione. Camminando per Ponte di Brenta, rione a nord del centro di Padova, ancora si apprezza il grande lascito immobiliare e culturale che Vincenzo Breda, potente imprenditore patavino durante il risorgimento, volle donare alla comunità. Ma quel patrimonio ora è per lo più smembrato, rivenduto o all'asta. Colpevole la gestione scellerata di un gruppo di amministratori della Fondazione Breda, che istituita nel 1905 avrebbe dovuto gestire le proprietà del senatore, perseguendo le sue esplicite volontà di creare un asilo di infanzia e un ospizio a beneficio della comunità. Un buco da 25 milioni di euro, fondazione dichiarata fallita e sei beni in liquidazione. La vendita più recente è stata quella dell'ippodromo, pagato 2 milioni di euro da una società friulana, un quarto del suo valore effettivo. Venduto anche l'ex hotel e ristorante Le Padovanelle, per 800 mila euro, a fronte di un valore di quasi un milione e tre. Altri quattro beni della Fondazione aspettano la loro vendita. Il centro residenziale Sclerosi Multipla a Brusegana, la residenza per anziani a Ponte di Brenta, in gestione al Configliachi, la scuola materna del quartiere e Villa Breda, con il suo grande parco. Quest'ultima, simbolo più noto delle ultime volontà del senatore Breda, lasciare il suo patrimonio alla comunità. Se avvenisse l'acquisizione da parte del comune, oltre a rendere Padova più ricca, renderebbe più facile girare pagina, appianare i conti col passato e rendere onore alle intenzioni del grande imprenditore.